Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Tia ed oggi siamo su Gmod per continuare la nostra avventura su FNAF in Gmod ovviamente No Cazzo Oggi siamo in compagnia di un po' di persone diverse Diverse tra loro Esatto Abbiamo Volpe, Dr. Brain, chiamato... Scusami, chiamato Nanny per gli amici Henry Games Cia- Amiii Sabbia Eccolo qua Io non esisto, giustamente No, devo fare ancora Shove e Paul 89 Bella per voi, raga Ma è super... Ah, aspetta, ma lui può sentirci o no? Beh, immagino proprio di sentirci grande Sì, sì, si parte, si parte Ah, ma quindi noi non possiamo comunicare tra di noi? Eh, no, vecchio Ah, cazzo E noi non possiamo coordinarci Ma è via... 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 Ma è riuscito a questa zona? Che cazzo? Dove... No... No... No, voglio giocare hardcore Non uso le porte Le porte Vedo qualcosa dietro orrendo Mi fa paurissima Madonna Mi stavo un po' spaventando Nini orrendo Dovrei aver scaricato tutto Noo Eh, è simpatico andare in giro così con Funtime The Fred Cazzo Non mi ha visto Ma che schifo doccia, non è brutto Che cazzo... Che cazzo... Mamma mia Adesso ando un po' in giro No Incidente con... Cosa Mi sto perdendo con i comandi Perdonami I corridai sono un po' trafficati oggi Sì Beh, direi Sì È il traffico di Milano questo Ma che cazzo mi sono cagato in mano Regà, scusatemi Come faccio a fare dei jumpscare da quest'uomo? Devo entrare... Vecchio colta... Eh, sì, devi per forza entrare Ah, ok, ok, ok Tipo cos'è? Gabbia Hai le tue spalle Eh, va bene Eh, allora Va bene, non vi ho fatto niente Quanta vita! Iiiii No, sì, mi dio Vi dico una cosa Che cosa orrenda? E si è fracassata il collo È bellissimo Guarda, guarda, guarda O Dio cos'è? O Dio Sė Sė Morto O Oppure Allora, andiamo Andiamo Ok Fantastico, si parte Che cazzo sta facendo This It's time to die Mito Sto unendo la partita Terrore, paura Non mi parà di fare tutti i doni, vero? Via te! Madonna, Funtime Freddy's con che tante Ah, ah, ah Via, ah, via! Via, via, via tutta la ventola Quanta gente Ma Baby può andare nel lato corridoio oppure su un po' di destra? Baby può andare a volpa Mi chiudo perché sento... Caliti da cazzo! Maledetto Che cazzo! Ma l'aveva ucciso? Veramente? Sì Mi è arrivato un missile, proiettini in bocca praticamente Ma allora Ero qui di fianco da un uomo Guarda, guarda dove arriva la razza La razza insieme Sono, sono morto Gabbia Addio Allora 3, 2, 1 Andiamo Facciamo cosa Andiamo Via! Avanti Savoia! No No, no, non fare quel verso lì perché dopo non ti si può più togliere Vedi Aerie è bravo che chiude direttamente le porte Eh, però l'Aerie è prima o poi Ma sì, fai bene Prima o poi Sì Eh 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 No, no, chiudi Oh Non chiudeva Eh, paura eh Ti stavi cacando sotto Eh Sì, un pochetto C'è Leonard che ti viene a correre un regnamento Ma no 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 Ma allora Ahahahah Questo era brutto Oh cazzo, non ho sbagliato Apri, apri Ma qualcuno ha detto tu è il mio sbaglio Ma no no Che brutto che sei Eh Non mi avrete mai Dai, è stra divertente secondo me sta modalità Cosa dici, Nelly? Non mi avrete mai viva Molto bella, molto bella Sì, no E adesso ti perdono gli app, sai? Ah, no, chiudi No 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 L'hai seccato, Nelly? Eh sì, vecchio Ero lì Perché si era fermato a guardare la porta di sinistra Per un po' di secondi in eccesso Bene vecchio Bene così Ok, allora direi che siamo pronti per partire Si va Olè Ok, Alpi mi sta aiutando Madonna, vedo l'ombra di cosa, è bellissima Sì Di connessione numero 3 Madonna Che brutto Nelly stavi per seccarmiti già Va uno eh Eh, mi sono un po' inquietato Allora, otti chiudi Che cosa serve esattamente il... Aiuto Tozio Che roba vecchia Ah, ok Sì 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 Madonna, inquietantissimo Mamma mia Massimo rispetto eh qua No scusami No scusami Johnny sta molto attento a... Dalle regole 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 Modto Tozio Ma Ennard fai qualcosa Di There Ma Ennard fai le cose in realtà Ma dovrebbe stare nella ventola Perché chi invece Ogni tanto impaio vecchio Ma no stavi restuto troppo Dobbiamo attaccarlo dalla ventola Eh beh la ventola è già... Occupata eh al momento Ma che caz LO Guardi andavete chiamata Se io sto facendo avanti e niente nell'ufficio Però manda Video in te con più Ce la puoi? Yes. Oh, si. Madonna, quanto siete qua? Se questa volta non ce la faccio, me ne andrò qui. Ho il mio altro tasto, dove partire una paura brutta, però senza jumpscare per un paura e basta. Ma fai bene, vecchio. Però tu ho il tasto. Mamma mia, ballora. Oh, signore. Aaaaaah! No, no, no! Quella è il più aiutante, madonna che fastidio! Eh, hai visto, hai visto? Che sembra stoppito down e invece era lì. Che non passava. No, ma la cosa è che non posso diventare invisibile con questa merdaccia! No, ragazzi... Ragazzi, chi è che interpreta Ezzi, scusate? C'è il celu. Harry Games! Nessuno che finirà bene di tutti. Dopo sei morto tantissimo. C'è lo stesso bug di prima, niente. Non c'era. Ma non è occupato il ventilatore, che capo? Ho chiuso fuori Elpi. Grande. Ma guarda, aspetta, ma è una zona buia. Eh sì, vedi? Lui, non puoi passare! Un fact, mi ero bloccato nelle ventole, mi ero glitchato dentro. No, perché si è spenta la luce dell'ufficio? Cosa è successo? Chi è che me l'ha tolta? Ragazzi... Com'è troppo, Elpi! È troppo, Elpi! È troppo, Elpi! Ma, ma perché sono in uno santo da solo? Oh, ma... Ma... L'ufficio buia è stra più inquietante. Non c'è la fucking ventola, se no non vediamo più! Ah, vedi che c'è sabbia nella ventola, eh? Grande, Neni! Madonna! Quanto manca? Eh... Un po', un po'. Si continua, vecchia. Non si sa mai. Un ventolino! No! Ah, ciao, Paul! Grande! Ci sono... Ci ho fatto in sogno! Sì! Stai vedendo? Un momento, un momento, un momento! Ok, direi che ho abbastanza perso, eh! Se prendermi io, no! Aiuto! Madonna! 3, 2, 1, 2, 3... Uno, due, tre, due, uno, via! Dai, amico! A posto! Ti proteggerò da questa sborrenza serata in mezzo ai mostri! Ora! Ma perché? Stai attento! Capp... Ah, io non posso aiutare vero... Contro Ender? Eh... No, no! Cioè, non posso aiutare... Esatto! A parte contro Ender, ma non posso aiutare... Ehi, attento! No, no! No, no! No, no! Ah! 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 Adesso vengono a romperti le balle, sappia! Ma... C'è... Ma che... Che cosa è successo qui che ci sono delle macchie di sangue? Eh... Niente di importante, tranquillo! Cosa è successo? Cosa è successo? Mamma mia, ragazzi! Guarda che chiudi, stai la luscia! Ma perché... No... Non l'ho ucciso io anche se avrei... Ci diamo i testimoni! Ma allora! Sparte! Sparte? Yes! No! Ah! Sparte! Oh! Cioè, più di... più di così! Ma chi è che? Chi ha cacciato a volte della chiamata? No, no! Upsi d'upsi! No, in realtà no! Oh! Ma che cazzo fai? Ma allora! What? Ma chi è che ha colpito me? Ma... ma... ma ti... ma ti doveva aiutarmi? Ma hai vietato saltare sopra la testa di Elke? Come ti permetti? Scusa, stavo scherzando, stai... Ecco, sarà meglio! Chi cazzo è quello poi? Ma perché... Perché c'è un Father Grigori? Ma perché c'è un Father Grigori? Ma perché c'è un Father Grigori? Che cazzo? Ok, vabbè... C'era un Father Grigori, random! Ma devi tagliarla qui, sta... No, no, la tengo perché fa morire da ridere! Ma perché? Non ricordo... I'm nice at Grigoris! Grande! Grande! Come vuoi dire? Stava flashato, guarda! Guarda! Ma torna a casa! Torna! Perché hai sento voci? Qui sarà necessario... Eh, qua adesso non eri, eh! Eh, hai ragione! Eh, Harry! Harry, ma aspetta! Ma c'era... Ah! No, non c'era adesso! Ma un altro Father Grigori! No, ma... Allora! Morite tutti i mortali! Sìììì! Ce ne... Ma ci sono anche dall'altra parte! Chi è che li mette? Chi è che li ha... Eh, vabbè, sono morta pure io! Ma chi è che ha messo i Father Grigori nella mappa? Quanti sono morite tutti! Sabbia, sei stato tu? No! Neni? No, no, no! Io no! È stato sabbia sicuro! Comunque vabbè la mia uccisione, Tozzi! È l'ultimo tecnica questa qua, regà! È vero! Ah! Se non lo sto disperito! Ue, 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 ue! Vado retro! Bastardo! No! No! Uau! 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 C'è sabbia che mi blocca la strada! Aspetta, mi sto rompendo dentro da te! Andiamo qua, perché? C'è un gabbiano che si è buggato! Vedo la... Via! Via! Maledetto! Andiamo qua! Amico mio! Amico mio! Amico mio! Amico mio! Ho bene la mentola, eh! Cioè, non è che devi dire, se... Shhh! 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 Nen'inverno inizierò ad arrivare molto frequentemente! Cazzo! Eh eh... Eh... chancellor! Eh... Perché cioè, c'è, c'è un piccione... D'una parte, e una nostra patata, da un'altra? Perché? Via, via odio su tutte e due! via... ma facendo comunque incredibilmente ma due che è diventato trasparente caccia pure da piano piano qua inizio a sentire un po troppi suoni basta sto tizio madonna posso ucciderla posso ucciderla ma è però ho paura di uccidere anche elpi facendo sta roba aspetta 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 fatto grazie a dio io me la gioco senza forte tutta senza forte maledizione mamma mia mamma mia dov'è? ah è morto ok ma perchè continui a spawnare gente? che è sta cosa? vogliamo tutti che muori aiuto ah mi sbaglio perchè c'è Waco? come c'è Waco? ma perchè? eh qualcuno ha spawnato ma perchè c'è Waco? ma mancavano cinque secondi ed eri morto vado bene controllato invisibilità non vale maledizione ci sono scambiati due foxes ma vera mi faccio bene mi faccio bene vedi come VOC è una ombra via vedi la mia ombra lo so vecchio constraints è cheaper e la mia sombra ma allora SOOMBRA dude ci sono DIVA! C'è DIVA! Perchè c'è DIVA? Perchè c'è una fighe, eh? DIVA! Evviva! Via quello! Eeeh! Shove! 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 Dai! Buon behemoth! Oddio sto sopravvivendo! Alla cavastum! Alla cavastum! Via! Via! Ma cazzo! Oh no! Oh no immortale! Via! Via! Ma perchè? C'è SCP! No raga mi avete rotto! Mi avete rotto, mi sono bucchato! Ah no ok basta, mi sono bucchato! Via! Maledizione! Ahia! Perchè c'è un padre di scuola davanti a me? Con il potere di Euronix, vai via! Euronix! Io sono... Euronix! Euronix! Ma questi minuti sono passati! Eeeh che dici? Sei sicuro? Si sta arrabbiando 096! Euronix! 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 Non so se posso sopravvivere a questo! Nooo! Chi è che la guarda? No non puoi andare nella porta! Oh 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 oh! Chi è? Chi è? Chi è? Ma che stai facendo? Euronix! 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 Non sono sicuro vecchio eh! Nel dubbio continuiamo! Ma cos'è questo? Cos'è?! Ma basta! Chi è che spawn? Complimenti Neni! Mi sa che hai vinto eh! Grazie! Grazie! Euronix! 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 Io! Nooo! Io! Io festeggerei facendo così! Io festeggerei facendo questo! Ok! Quindi questo era tutto quello che potevo fare per questo video! E noi ci vedremo! Eh vabbè! Sicuramente nel! Prossimo video! Leggio! Siiii! Euronix!